Ti piace? È bellissimo. Allora, va bene? Grazie. Messi! Volevo presentarvi il nostro nuovo direttore creativo. Buongiorno. Sei della bilancia, vero? Per me l'astrologia è una cretinata. Cioè, tu davvero esci solo con persone astrologicamente compatibili? E funziona? Non mi lamento. Sono due anni che ti nascondi dietro questa amicizia. È arrivato il momento di spiccare il volo. Sappiamo di che segno è? Davide mi ha raccontato di ieri sera. Quello che il dottor Bodrato vuole dirle è che ha molto apprezzato l'idea che mi ha raccontato ieri sera. Io? Tipo a uno show sull'astrologia. Questa è la tua carta astrale. Mi stai prendendo in giro? Perché? La mia casa dell'amore è praticamente un enorme buco nero e ci lamentiamo che non trovo un fidanzato? Ti rendi conto che stavo per dirglielo? E poi? E poi l'ho vomitato addosso. In bocca al lupo. A te. Magari questa può essere la mia occasione per essere felice, no? Se la gente sapesse dietro tutte le scene romantiche quante complicazioni ci sono. Secondo me non lo vorrebbe sapere.